Sì, è stato un bellissimo pomeriggio, questo convegno organizzato dalla dottoressa Anna Marotta, direttrice della struttura complessa di medicina e cardiologia dell'ospedale di Soveria Mannelli. Ma è stato un convegno anche atipico sotto certi punti di vista perché le relazioni sono riuscite a coinvolgere sia il pubblico tecnico che laico. Infatti c'erano in sala una numerosissima presenza di operatori sanitari dell'ospedale, di Lamezia Terme e di altri territori e c'erano in sala anche numerosi cittadini di questo comprensorio interessati anche a conoscere quello che si fa in questo ospedale, quello che si può fare e anche le modalità di approccio di questo ospedale che sono, come dire, io dico innovative perché la medicina sobria e rispettosa dei tempi e dei diritti del malato dovrebbe essere un obiettivo di tutti gli ospedali. Però soprattutto nei grandi ospedali, negli ospedali hub dove ci sono molte file e dove i tempi devono essere rapidamente ristretti non c'è più il tempo di soffermarsi su quello che è il vissuto degli ammalati, sul loro ascolto attivo. La cosa che è emersa oggi dalle relazioni è che la medicina deve recuperare questo ruolo e non è un processo solo che parte da Soveria Mannelli ma è un movimento anche di pensiero medico, la Slow Medicine che parte e sta prendendo piede in numerosi paesi d'Europa. Devo dirle questo perché io adesso sono direttore generale dell'azienda sanitaria con numerosi problemi organizzativi e di sostenibilità economica e spesso ascoltare l'ammalato attentamente, cerca indirizzi il medico nella giusta via verso la diagnosi clinica e spesso questo può fare risparmiare anche molti soldi al servizio sanitario regionale che ne ha pochi. Rispetto alle sorti dell'ospedale di Soveria Mannelli si è detto in molte relazioni di recuperare una mission che era quella legata soprattutto all'assistenza ai pazienti cronici, ai pazienti con lungoteggenze e bisognevoli di riabilitazione in un contesto di un ospedale però che possa servire anche come punto di riferimento per la medicina territoriale, quindi con un laboratorio di analisi, con un laboratorio di diagnostica per immagini che possa soddisfare tutte le esigenze di un comprensorio montano. E poi la cosa sulla quale io ci tengo perché così in maniera egoistica è stata una realizzazione dell'amministrazione che dirigo è la realizzazione di questo nuovo pronto soccorso, un pronto soccorso abbastanza bello dal punto di vista strutturale ma con adeguate tecnologie e oggi abbiamo visto anche degli esempi descritti dal responsabile del pronto soccorso dottor Giovanni Paolo di casi brillantemente superati grazie proprio all'apporto cooperativo tra medici, infermieri, anestesisti eccetera ma grazie soprattutto anche alla possibilità di avere un laringoscopio con luce diffusa, di avere delle attrezzature le quali possono essere utili in interventi di così importanza. Salvare anche una sola vita umana ripaga sicuramente degli investimenti che abbiamo fatto. Io vorrei che attraverso anche queste immagini e queste interviste che facciamo questo messaggio arrivi anche ai livelli decisionali politici perché il direttore generale è un esecutore di quello che la politica sanitaria decide sul livello programmatorio regionale e quindi far sì che gli ospedali di montagna vengano riempiti di contenuti professionali infermieri, osso, medici là dove servono senza sprechi come magari qualche volta nel passato è stato fatto in maniera da dare diciamo alla gente un presidio che possa servire diciamo come momento anche di tranquillità e di sicurezza e quindi vorrei anche lasciare questa sua intervista con una parola di speranza che la direzione dell'ASPO di Catanzaro si impegnerà in questo senso sempre nel rispetto delle risorse a disposizione. Grazie. 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 Grazie.